ci fu una volta un re che aveva una figlia unica di gran bellezza e da marito un re suo confinante aveva tre figli giovanotti e si innamorarono tutti e tre di questa principessa il padre della principessa disse per me siete tutti e tre uguali e non posso far preferenze per l'uno per l'altro ma non vorrei che nascessero contrasti tra di voi fate così andatevene in viaggio per il mondo e quello che fra di voi di qui a sei mesi tornerà col regalo più bello lo sceglierò per mio genero e tre fratelli partirono e in un punto in cui la strada maestra si spartiva in tre vie presero ognuno per una via un fratello maggiore passò tre mesi quattro cinque e ancora non aveva trovato una cosa che meritasse d'essere portata in regalo la mattina del sesto mese era in una lontana città quando sotto la finestra dell'albergo sentì una voce tappeti tappeti fini si affacciò e il tappetaio gli chiese lo vuoi comprare un bel tappeto lui disse proprio i tappeti mi mancano nel mio palazzo c'è pieno di tappeti anche in cucina e il tappetaio ma un tappeto con la virtù di questo certo non ce l'ha e quale sarebbe questa virtù è un tappeto disse il tappetaio che quando ci si mette sopra i piedi fa cento miglia al giorno il principe schioccò forte le dita ecco un regalo che fa per me quanto ne volete galantuomo cento scudi tondi né uno di più né uno di meno disse il tappetaio affare fatto disse il principe e gli contò i cento scudi appena mise i piedi sul tappeto il tappeto valicò monti e valli e arrivò all'osteria dove gli aveva combinato di trovarsi coi fratelli alla fine dei sei mesi gli altri non erano ancora arrivati anche il fratello mezzano fino agli ultimi giorni aveva girato da ogni parte senza trovare un regalo che gli andasse ed ecco che incontrò un merciaio ambulante che gridava cannocchiali cannocchiali perfetti signorino le piace un cannocchiale che me ne faccio disse il principe a casa mia c'è pieno di cannocchiali tutti delle fabbriche migliori scommettiamo che cannocchiali con le virtù di questi non ne ha mai visti disse il cannocchialaio che virtù questi cannocchiali vedono lontano anche cento miglia e non solo all'aperto ma anche attraverso i muri esclamò il principe allora è proprio quello che fa il caso mio quanto vi do cento scudi tondi ecco cento scudi datemene uno e appena ebbe il cannocchiale fece ritorno all'osteria vi trovò il fratello maggiore e insieme aspettarono il più piccolo dei tre il più piccolo dei tre fino al giorno prima dello spirale dei sei mesi non aveva trovato il regalo e ormai disperava di trovarlo quando già sulla via del ritorno trovò un fruttivendolo che gridava uva salamanna chi ne vuole compratela l'uva salamanna il principe che non aveva mai sentito nominare l'uva salamanna perché al suo paese non cresceva domandò com'è quest'uva che vendete si chiama salamanna disse il fruttivendolo è l'uva più squisita che ci sia e questa per di più ha una virtù speciale e in che consiste questa virtù a metterne un chicco in bocca una persona in fin di vita la si fa tornare subito in salute ma no fece il principe allora io la compro subito a quanto la vendete ah ah va chicchi ne farò cento scudi tondi per un chicco perché lei trecento scudi in tasca aveva il principe e tre chicchi soli di uva salamanna poté comprare li mise in una scatolina ben conservati con da bambagia e andò a raggiungere i fratelli quando furono tutti e tre assieme all'osteria si domandarono l'un l'altro cosa avevano comperato io oh un bel tappettino fece il maggiore beh io ho un cannocchialetto fece il mezzano un po di frutta e nient'altro disse il terzo chissà cosa succede adesso a casa nostra e al palazzo della principessa disse uno di loro e il mezzano così facendo fece finta di niente puntò il cannocchiale verso la capitale del loro regno tutto era come al solito poi puntò il cannocchiale verso il regno confinante dove era il palazzo della loro innamorata e diede un grido cosa c'è dissero i fratelli sapete cosa vedo disse il fratello al palazzo della nostra innamorata c'è un viavai di carrozze gente che piange e si strappa i capelli e dentro dentro vedo un medico un prate con la stola al capezzale di un letto sì il letto della principessa distesa e pallida come una morta presto fratelli corriamo se vogliamo arrivare ancora in tempo sta morendo come facciamo c'è più di cinquanta miglia non sgomentatevi disse il fratello maggiore arriveremo in tempo presto montate tutti sul mio tappeto il tappeto volò fino alla camera della principessa entrò dalla finestra e si posò ai piedi del letto come uno scendiletto qualsiasi coi tre fratelli sopra il fratello più piccolo aveva già tolto dalla bambagia e i tre chicchi d'uva salamanna e ne mise uno tra le pallide labbra della principessa e la inghiottì e immediatamente perse gli occhi e subito il principe le mise un altro chicco tra le labbra che tutta un tratto presero colore le fece ancora inghiottire il terzo chicco ed essa respirò e alzò le braccia era guarita s'alzò sul letto e chiese le sue vesti più belle alle chiameriere in mezzo all'allegria generale il fratello più piccolo disse allora la vittoria è mia e la principessa è la mia sposa senza l'uva salamanna a quest'ora era già morta no fratello protestò al mezzano se io non avevo il cannocchiale e non vi dicevo che la principessa era in fin di vita i tuoi chicchi non servivano a niente perciò la principessa me la sposo io mi dispiace interloquì il maggiore la principessa è mia e nessuno può togliermela le vostre ragioni sono nulla in confronto al mio tappeto perché per arrivare qua in tempo solo il mio tappeto poteva servire e non il vostro cannocchiale o la vostra uva salamanna così la lite che il re voleva evitare scoppiò più aspera di prima e il re per farla finita decise di sposare la figlia a un quarto pretendente che era venuto a mani vuote a mani vuote